Scusate, il signore, il signore, il signore, il signore sa che gli diamo un lavoro, ma no, quindi... Capisco, avete fatto buttare la radio, la radio, la radio, la radio è stata buttata, è stata buttata. Capisco. Perché avete preso questo signore? Posso questa macchina, posso? No. Ok, non hanno... Chi dei due? È il fortunato lavoratore. Lui, lui. Lui? Lui, lui. Salve, come si chiama? Signor Spino. Signor Spino! Arrivano, macchina! Signor Spino, a piacere, io sono il pescatore. E lei chi è? Che fa qui? Che fa qui? Non si intrometta! Che punta lei? Non si intrometta, assurdo. Chi è? Si identifichi. Scusi, si vede qua in mezzo. Abbiamo visto arrivarla. Signora, gli stavamo per la buona intenzione. E sicuramente lei è finita la gente così, perché lo ha detto arrivare, quindi io gli sparo un colpo. No, no, signora, non ti preoccupo. È sempre un buon momento per sparare un colpo in testa, lei non crede? No, io non credo. Non crede? Stavamo facendo un accordo. Lavoro a questo signore qua. Che lavori? Oh, ma che cazzo... Che diavolo succede qui? Chi è quel signore? Che ci fate qua? È un amico mio. Eh, vangirio, con la musica a palla, così. Che genere di lavoro? In realtà, stavamo per reclutare questo signore come un kirichetto. Per assistere alla mia messa. Ma fa il prete? Prete armato? Come quali che facciano le roine da prete per non farli sgamare. No, non so dove lei abbia vissuto, dove facevano queste cose, però. No, in Nigeria fanno queste, vabbè. Gli DJ? Sì, in pratica, ci avessero la prete e trafficano eroino. Ah, avroti stronzi. In casa andrò in Nigeria e farò quel lavoro. No, non ce l'ho. Cosa fa lei? Che cazzo? Lei fa i compiti delle vacanze come lavoro. Perché lei ha il libro. Signore, hai compito delle vacanze? E dove hai il libro? No, ma io non vado manco a scuola, signore. Che cazzo? C'ho 30 anni, che cazzo vuoi? E ho 34. Eh, il suo amico là, che c'ha la musica a pala. Quanti anni c'ha, sta da fare i compiti? Ok, allora nessuno la paga per fare i compiti. Sì, però nessuno mi ha ancora spiegato che genere di lavoro avete offerto. Ma che se che gliene frega a lei, vada via. Torni qua con i suoi amichi truzzi. Eh sì, ho detto amichi. Chi è questo elicotero, è uno dei vatti? Ah, non penso. Ok, assolutamente sì o no? Non capisco chi sia. Ci sono i ribelli qua, non venite. Nella cavolina rp. Ma che gliene frega a lei, ma stiamo parlando con lui. Le ho appena detto che io sono tutore dei civili. Un tutore, ma scusi, per quanti anni c'ha? 90, c'è bisogno della paga avanti qui. Ecco, ecco lo che si schianta contro la macchina, lo so io. Vede, lo stiamo trattando da Dio. Deve lavorare, non deve morire. Non ancora. Vede, come cazzo guida lei? Mi scusi, è il posto di parcheggiare in mezzo alla strada. Ma cos'è che siamo qua? È sempre meglio se non arrivi la polizia qua. E tre signorini qua, adesso che ho per un lavoro al signore che fa i compiti della vacanza. Chi è che fa i compiti della vacanza? Lui, lui! E questo signore vi ha qua il cappellino da Sanpei. Nooo, stia buono lei. Lui, lui! Non lo so, io vengo al mio... Che volete? Fatevi gli affari vostri. Ho detto che è un kirichetto. Che cosa è te, Roma? Vengo lì o no? Ascolta, buon amore. No. Sì, che l'ora non vuole. Ci ho capito un cazzo! Me lo rispegriato da capo perché io non ci ho capito niente. Me lo rispendo. Sanpei, mi gli spieghi un pochino tutta l'altra parte? Può sparare al signore solo perché vuole 20 euro per equazione? Eh, lo spareremo entrambi al signore tra poco. Se non lo smette questa storia dei compiti. Io le faccio i gratis. Sanpei, vorrei già al vento là. Oh! Eh, mi spieghi un attimino cosa sta succedendo. Eh, hai scelto. Abbiamo reclutato il signore per un semplice lavoro di kirichetto. Sai cos'è un kirichetto? Con quella faccia lì. Armato fino al buco del culo. Lei si è, Don Fabiano. Senti, pirla. No, io sono Don Shoot. Senti in fronte? Eh, tu sei Don Pirla. Ascolta, quando me la racconti tutta? Adesso mi spieghi veramente cosa sto succedendo. È un kirichetto, signorino. Signorino. Eh. Eh, beh, quindi? Eh, quindi? Che gliene frega lei? Vada a prendere il sud. Allora, se lo vuoi, prima di tutto, buona, no. Ascolta, eh... Questo, l'è un ovvio covo di smaltimento dei nostri sindacali dell'Igola, d'accordo? Ah, sì? Eh, come fa a saperlo lei? Come fa a saperlo? Dica, la metà della roba là dentro è mia. Ah! Beh, mi sembra oppia. Ecco, quindi, va bene. Quindi? Ecco, forse l'era meglio se decisevate un'altra zona per... Beh, ma allora, se vogliamo mettere i puntini sulle I, quella chiesa è stata costruita prima del suo casino là, in fondo. Lei legge lì una chiesa, ok? Noi siamo liberi di venire qua in chiesa. Ottimo, adesso è mia. Ma lei faccia quel cazzo che vuole, io gli ho chiesto che minca volevate che cazzo facevate e ho chiesto io, non che cosa sto... Eh, ora... Eh, adesso che ve l'abbiamo detto, non mi va bene. Quanto stai facendo qua in chiesa? Eh, ecco, stai venendo in chiesa. Ma non è abbandonata, è abbandonata da gente come lei. Oh cazzo, ci hanno inculato le panchine. Ce n'erano due l'ultima volta. Zinghiri di merda. C'è una panca dove uno può pregare e c'è una croce, c'è la campana. Vedete, qui sono le campane, se qualcuno riuscisse a staccare la corda. Volete partecipare alla messa? Ma dove vuoi il parroco qui dentro? Scusi, eh, lei fa qualcosa perché il parroco... C'era, c'era Don, Don Giovanni, là. C'era Don Giovanni, eh, se lo so fregato. Vabbè, eh, non lo so, quello che faceva i conti... Eccolo qui. Oh, tutto ok, signore. Se non hai abbatto la vista. Compilai, oh. Dategli delle vitamine che si sta sentendo male. Ma parlando quella... Ma non ha un visore. Ma sono ingegnere. Quello che si che non ha un visore. Ringrazio, Capitano Fio, la ringrazio. Oh, ma si lavilei, non l'ho capito. Mi sono offeso. Mi sono offeso molto. Io protesto. Io protesto. Se lei protesta, quello che succede... E cosa succede? Che fa? Spara per terra? Spara per terra? Se protesto spara per terra? La prossima volta, se mi arriva un altro proiettile, Khorna scatenerà la sua ila. Spara per terra? Ecco, corna è posta a tenare poi corna. Spara per terra? Dai, andiamo, buon'uomo. Sì, ci sono tutti... Corregi. Venga qui, venga qui un attimo con me. Venghi, venghi, venghi. Venghi, venghi, venghi. Venghi, venghi, venghi. Venghi, 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 venghi. Venghi, venghi, venghi. Venggo, venghi, venghi. Ssshshhh. Venghi, venghi. Cosa facciamo al camporello? Venghi, venghi. Sshhh, sshhh, sshh, sht. Venghi. Venghi, venghi. Allora, lei adesso lascia il civile e se ne torna a fare casino con i suoi amici truzzi. E noi Procediamo con questa messa Secondo lei per cosa cazzo L'ho appena reclutato Per fare il chirichetto Cosa faccio dopo della messa Stia attento come parla Ecco perché Non ho capito Cioè io mi faccio un precoltato Magari È CORN È CORN È CORN Vabbè Mi capisca Vabbè quindi Ecco Infatti lei è uno di quelli là E lei Allora lei è uno di quelli là Che 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 Capisce le persone Che le È uno di quelli là Io non rapisco nessuno E' il mio collega Che rapisce i bambini Se li mangia Io non sono così Vabbè Lei non è così però Intanto Lei fa parte di quel gruppo lì Non ho capito Io diciamo che Sono quasi un capo Di quel gruppo Lei è il capo Del gruppo Che stermina i bambini No Lui stermina i bambini Ce ne frega un cazzo I bambini A me frega Che tutti siano giudicati Da CORN E che dimostrino Di tenere alla propria vita Che dimostrino Di dare Qualcosa A quest'isola Di essere degni Di vivere la sua vita Non abbiamo invasato tutti Non ho capito No 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 Vabbè No Vabbè 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 Non le ho capito I bambini E che ha detto prima Ha detto che Mica se li mangiate Figa Non da CORN aiutami tu CORN Ho detto che il mio collega Mangia i bambini Perché è stronzo Allora Vediamo di portarci un po' Da questo collega Non ho capito Eh Eh Sapere dove cazzo è Questo collega Eh Certo Tu c'è un collega Non sa dove abita No Vabbè Arone Chi c'hai preso È la prima regola Nessuno deve lasciare tracce Ecco Tracce Lei sa dove abito Eh So Cos'è il processo Io sono su dove abita lei Vede Non lascio tracce Per fortuna no Perché se no Ah certo Vabbè Non so No Forse perché Ascolta Ha mai visto delle mie tracce Io sinceramente Preferirei No Tracce Io preferirei Avere il nome di questa persona qua Che mi stai dicendo Che ti mangi i bambini Dell'isola Non ho capito Come si chiama Qui si fa chiamare Il clown Il clown Come di merda me Oh eh Si mangi i bambini Cosa pretende Si chiami anche normalmente No Certo Ascolta Va bene Dove lo posso trovare Dai che lo sai Ho detto che non lascia tracce Potrebbe essere anche a cavale In questo momento Normal activity Senti Senti Vabbè Ma hai caccato tre quarti di minta Va Senti Vai a fare un giro Che io mi porto via Che schifo E mi cazzo Non voglio rimangare Pure questo Via via Sabe Ah no 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 Signore Venga qui Lei è il mio carichetto Non vede molto Dategli un paio di occhiali Per piacere Perché questo nostro qua Sbatte Ecco adesso non ci vedo più io I fari non vanno Quegli abbagliati Di abbagliare Oh io non sto prendendo Per i fondelli nessuno Sicurezza a questa persona Io sono convinto Del fatto che qua La cosa mi pussava Massimilino Non è la prima volta Che cedono casi Di questo tipo Di persone morte Nei pressi delle chiese E roba del genere Tutte leggende metropolitane Vediamo di Prendere i piedini Del cazzo che c'hai ancora intatti Prendere e camminare Mi ha sparato il suo collega Non mi sembra che sono ancora intatti Vabbè Se vuoi Allora Spariamo Spariamo anche l'altro Dai così No Oh 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 Non mi punti quell'arma L'abbassi Quella la quale? Hai girato Da quale? Dove punta l'arma O dove gira la testa? Volete partecipare Alla messa di Corri? Ah corre Scusi Ecco L'ha detto Il mio collega Messa di Corri Messa di Corri Non ho capito più Cosa 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 cosa? Non ho capito Lei è stato un collega dietro Cos'è? Cos'ha detto lei? Le divinità altrui Eh? Cosa fa? Ah chi sta? È stato lui Dove l'è? Lei che c'è? Lei che c'è? Ecco Scherzo Qual è il problema? Eh Mi sembra una cosa da fare Non ho capito Ah allora L'ho fatta di nuovo Lo fa Ah sì Infatti Lo sentite anche io Beh dai Corri o no Deve andare di là No Io invece andrò Al mio pick up Che cazzo Sono venuto in macchina Me ne vado a piedi Sì Vabbè Allora Noi allora andiamo Buona copertura Come? Venga con noi Gentiluomo Facciamo decidere a lui Facciamo decidere a lui Vuole fare il chirichetto? O vuole andare Qua Vabbè Va fai Gula Allora Corno Mi giudicherà tutti Grazie What you made me do